Aumentano le tensioni tra Washington e la Libia e Sigonella si prepara a ogni venienza. 200 Marines sono stati spostati da una base militare USA in Spagna a quella siciliana dopo le tensioni per il blitz che ha portato alla cattura di uno dei leader di Al-Qaeda, Abu Anas Alibi. La CNN riferisce che la decisione, presa in accordo col Dipartimento di Stato, è collegata a potenziali minacce alla sicurezza della missione diplomatica americana in Libia, già colpita pesantemente nel 2012 a Benghazi. La base di Sigonella ha assunto un ruolo cruciale negli ultimi anni, divenendo uno snodo importante per le operazioni militari USA in Africa. A partire dall'anno fiscale 2001, il Pentagono ha speso quasi 300 milioni di dollari nelle infrastrutture della base, più di quanto speso in qualsiasi altra base presente in Italia, con la sola eccezione di Vicenza. Inoltre, secondo il sito USA Mother Jones, a partire dal 2008, il Pentagono ha speso almeno 31 milioni di dollari per la costruzione e la gestione del sistema di sorveglianza con i droni Global Oak.